Al governo vale cambia, tu pregatti a Yannescha. Con il Gran Galà di Santià si è aperto ufficialmente il Carnevale Piemontese, che quest'anno vede l'unione dei quattro Carnevali Storici di Ivrea, Borgossesi, a Santià e Chivasso. Una collaborazione per preservare la storia e la cultura del territorio. È stata una serata bellissima, dove c'è stata una grossa affluenza di tutte le maschere e di tutti i personaggi piemontesi. Ognuno continuerà a fare il Carnevale secondo la propria tradizione e secondo la propria storia. Quello che deve cambiare è appunto la mentalità, perché la tradizione delle maschere, la tradizione dei personaggi, la storia, quello che la tradizione del nostro Piemonte può continuare solo se c'è una collaborazione con le forze in campo. Il Gran Galà ha presentato anche la nuova coppia che impersonerà Semoline e Maiutin, eroi del Carnevale di Santià, incoronati alla presenza delle numerose maschere provenienti da Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta. Era il mio sogno fin da quando ero bambina, quindi è stato il coronamento di un percorso carnevalesco che continuerà ancora dopo quest'anno, sempre nel mio gruppo i Funfi. È una grande emozione e un onore per me riprendere lo Spunciun da Martino. Spero di divertirmi, di far divertire sia i grandi che i piccini e speriamo di piacere alla gente. Per un carnevalante di Santià, impersonare la maschera è il massimo che puoi fare a Santià. Sicuramente è un'occasione per riallacciarmi e legarmi ulteriormente alla mia città. È un'opportunità che non tutti riescono ad avere e quindi per me è un onore assumere questo ruolo quest'anno. La serata è stata anche l'occasione per festeggiare i 50 anni della regione per presentare l'opuscolo realizzato dal Consiglio regionale del Piemonte, Carnevale in Piemonte, maschere, personaggi e costumi della tradizione. Tradizione che da secoli porta allegria e spensieratezza. Il Carnevale per noi maschere significa riuscire a trasmettere un po' di allegria in un momento molto molto difficile in cui è diventato problematico riuscire a far sorridere la gente. Il Carnevale è una cosa bellissima specialmente per noi perché portiamo in giro oltre il folklore e oltre le tradizioni del Piemonte portiamo in giro l'allegria e difatti il mio motto, il motto di Gianduia è gioia, serenità e allegria. Grazie!